A Firenze le emozioni e le sorprese non finiscono. Oltre alla nuova tribuna, quasi tutta color viola e senza barriere, nel corso della presentazione il patron Andrea Della Valle ha annunciato il rinnovo del contratto del mister Vincenzo Montella. Annuncio che ha fatto impazzire di gioia i 25.000 tifosi della Maratone e della Curva Ferrovia. È stata una serata veramente emozionante dalla presentazione della tribuna, veramente fantastica, hanno sottolineato anche il fatto che tirare il calcio d'angolo fa veramente impressione perché è proprio vicino al pubblico. E poi è arrivata questa bella notizia di Vincenzo Montella che rimane in Fiorentina. C'era il sentore che appunto lui rinnovasse, però è stato formalizzato in maniera più emozionante possibile davanti al pubblico, ai tantissimi tifosi della Fiorentina per molti anni. Quindi sicuramente come ha detto Montella tutte le stagioni sono un caso a seno, si può ripetere sicuramente la stagione dello scorso anno, ma sicuramente potremo sognare insieme ovviamente a Montella, insieme a questi grandi giocatori che ci porteranno in alto, sicuramente in Europa, per questa grande Fiorentina. Quella di ieri è stata una festa che i supporter viola difficilmente dimenticheranno. È stata la serata dei ricordi, quello di Walter Tanturli e di Mario Ciuffi, delle presentazioni ufficiali e anche dei fischi per chi non ha ancora rinnovato. Fischi a parte, i tifosi sognano una grande stagione. Questa Fiorentina ha tutte le caratteristiche per fare bene in Europa in campionato ed è una squadra che piace ai propri sostenitori. Questa Fiorentina ti piace? Un monte, parecchio, infatti non vedo l'ora che reinizi il campionato, che inizi l'Europa League, Coppa Italia, più partite si fanno, meglio è. Grazie. Grazie.